ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo aggiornamento di natale quindi come leggete lì sono i regali che fa rockstar appena insomma entrate su gt online come ogni anno vi regalano addirittura il candito che è insomma una nuova arma e poi ovviamente hanno aggiunto la neve nuovi collezionabili e una nuova arma che adesso vi farò vedere appunto e vi porterò la guida su come sbloccarla sempre se riusciamo a far partire l'evento comunque come al solito prima di cominciare iscrivetevi al canale mi raccomando importantissimo supportatemi anche lascio questa bellissima livrea natalizia perché giustamente questo qui è l'aggiornamento di natale come vedete dal video questo qui è anche come hanno modificato insomma il casino come ogni anno insomma mettono le robe lì di natale invece al appunto all'autoraduno abbiamo la comet s2 cabrio come vedete con la livrea natalizia anche in questo caso è andato sul menu interazione potete vedere cosa fare per vincere questo veicolo quindi primi in una gara della serie insomma in seguimento dell'autoraduno poi queste qui sono le auto del test track come vedete queste tre che potete provare all'interno dell'autoraduno e poi abbiamo il nuovo veicolo di ao che insomma c'è questa settimana l'imponte arbitrar gt come vedete dal video eccolo qui passando adesso all'autoraduno all'autosalone scusate di simeon abbiamo questi veicoli appunto abbiamo la ardente click stromberg vagrant e la toros tutte quante in versione appunto natalizia insomma quasi tutte insomma le potete provare oppure acquistare direttamente e poi passando al luxury abbiamo la 300r e la entity mf come vedete eccole qui sono i due insomma nuovi veicoli di questa settimana che hanno giunto qui passando agli scontri sulle agendari abbiamo la pegassi infernus classic come vedete dal video la obey tailgater s proseguendo abbiamo la pegassi toros come vedete è lo stesso veicolo che stava da simeon la benefactor schlagen come vedete eccola qui scontata e poi passando a san andreas abbiamo la declassi drift tampa insieme al declassi granger 3600 come vedete eccolo qui poi abbiamo la stromberg su warstock come vedete ottimo veicolo anche se preferisco la toros e poi ragazzi abbiamo la toreador scusate poi abbiamo la il vellum da 5 posti scontato così a caso altri sconti ce l'abbiamo sul cannone pirotecnico che potete comprare da munition ma comunque ve lo regalano e le munizioni sono scontate insieme a quelle delle mine di prossimità invece passando ai scu a insomma i soldi doppi questa settimana abbiamo soldi ed rp doppi sul business acid lab quindi sul nuovo business che ha giunto rockstar con l'ultimo dlc drag wars e insomma ho già portato delle guide su come sbloccarlo quindi andato insomma a vedervele è un business che conviene fare con i soldi doppi magari si e poi abbiamo soldi ed rp doppi su tutte quante le gare sia le gare stante che le gare normali come vedete dal video e invece soldi ed rp tripli su bestia contro maniaco modalità competizione come avete visto insomma sono le novità di questa settimana per quanto riguarda le nuove attività hanno messo gush che sarebbe una specie di mostro una specie di grinch che vi insegue per farlo spawnare dovete stare in sessione per circa 48 minuti e spawnerà a caso insomma vi cercherà di uccidere quindi insomma è un evento orrora per appunto natale e invece abbiamo il weasel plaza sparatoria weasel plaza che appunto vi permetterà di sbloccare la nuova pistola che appunto insomma adesso vi porterò alla guida comunque dovete stare 20 minuti in sessione in zona weasel plaza per appunto sbloccare questo evento spero che questo video vi sia stato utile vi ringrazio della visione e noi ci vediamo al prossimo video direttamente